eccomi ci sono allora buongiorno a tutti prendo questo streaming di oggi oggi 28 giugno vi ricordo che questa registrazione oltre a essere su twitch sarà anche poi girata su registrata caricata su youtube per tutti invito sia youtube che su twitch di mettermi like per chi mi segue sul canale youtube di cliccare la campanella perché così almeno un po di iscritti al mio canale allora siccome questo momento sono collegata anche su twitch ho avuto una semirichiesta cioè una richiesta suggerita volevo fare registrare un video sulle scomposizioni innanzitutto dei polinomi però far capire una volta per tutte bene a tutti i ragazzi cosa significa scomporre partendo sia dai numeri che dai polinomi quindi mettiamo bene gli occhiali condividiamo il mio bello schermo allora dallo qua ci andiamo a svolgimento il mio schermo ok questa è la mia lavagna ok allora innanzitutto scomporre in fattori fattori cosa significa fattori fattori quando voi avete una moltiplicazione scriviamo in nero che meglio 3 per 2 è una moltiplicazione questi si chiamano fattori ok i fattori sono i termini di una moltiplicazione quindi quando voi dite la parola scomporre scomporre un numero scomporre un polinomio significa che quel numero lo volete scritto come prodotto 6 uguale 3 per 2 questa è una scomposizione in fattori 12 uguale 4 per 3 questa è una scomposizione però non è una scomposizione in fattori primi per il fatto che il numero 4 a sua volta può essere scritto come 2 per 2 per 3 questa diventa del numero 12 diventa una scomposizione in fattori primi scomposizione perché il 12 lo scrivo come prodotto prodotto di 2 per 2 per 2 in fattori primi perché il 2 il 2 e il 3 non si possono a loro volta scrivere come sì io posso scrivere il 2 come 2 per 1 però 2 per 1 sarebbe una cosa scrivere per 1 è una cosa io lo posso aggiungere anche qui il per 1 però sarebbe una cosa inutile allora quindi scomporre in generale significa scriverlo come prodotto i fattori che sono i termini di una moltiplicazione allora io potrei anche dire che scrivere io posso scrivere 12 come se fosse il numero 10 più 2 è vero però è vera sta cosa 12 è vero che 10 più 2 però scritta così non è una scomposizione in fattori perché 10 e 2 non sono dei fattori 10 e 2 sono degli addendi quando voi scrivete una somma i termini di una somma si chiamano addendi non si chiamano fattori quindi scrivere 12 come 10 più 1 è una cosa giusta ma non è una scomposizione ok quindi scomporre scrivere come prodotto allora quando io mi trovo ad avere un polinomio tanto vi ricordo che cos'è un polinomio un polinomio è una somma tra tanti monomi non simili non simili cosa vuol dire che io questi tre monomi alla seconda ab alla terza sono monomi che sono formati mettiamogli anche un numero 2 alla seconda più ab più alla terza sono tre monomi la cui parte letterale anche se si assomiglia perché in tutti e tre monomi c'è dentro la lettera a è completamente diversa perché qua c'è un alla seconda qua c'è una b qua c'è un alla terza come dico ogni tanto nelle prime io cosa tante volte dico mettete per esempio che un giorno magari vi tocca fare per un breve periodo della vostra vita vita i magazzinieri magazzinieri cosa vuol dire che magari avete da etichettare delle scatole che hanno contenuti diversi allora nella il nome della scatola magari avrà una caratterizzata da una stringa da una stringa di lettere non so se vi è mai capitato di andare nei magazzini dell'ikea dove ci sono appunto i vari prodotti che hanno delle etichette magari hanno anche il nome billy 2 1 3 per esempio che vuol dire l'antina della billy 2 1 3 allora io riconosco che quei pacchi hanno lo stesso contenuto se hanno la stessa stringa di lettere quindi la stringa alla seconda la stringa b la stringa alla terza sono evidentemente tre cose diverse quindi se questo mi caratterizza un tipo di oggetto sono tre oggetti diversi e quindi non li posso sommare tra di loro allora posso però il polinomio scomporlo scriverlo come prodotto allora io per esempio nelle mie prime ho detto che cosa che la prima io ho fatto fare uno schemino che per esempio chi ha i ragazzi miei che per esempio hanno il debito di prima e devono fare magari a loro tocca fare qualche scomposizione perché magari il polinomio si trova denominatore di una frazione devono imparare a scomporre non tanto perché magari hanno l'esercizio da solo scompori in fattori magari non lo do a settembre un esercizio così però magari devono scomporre in fattori perché magari devono risolvere un'equazione fratta i cui denominatori vanno scomposti innanzitutto in fattori la prima scomposizione che bisogna sempre fare è quella che posso fare qua cioè quella che si chiama scomposizione a fattor comune io vado a notare se i miei tre monomi hanno qualcosa in comune questi tre monomi per esempio hanno in comune tutti e tre la lettera a alla seconda alla a a b alla a alla terza e se per caso questa a fosse scritta con potenze diverse io devo mettere in comune quella con l'esponente più piccolo la a è contenuta in alla seconda la a è contenuta in a b la a è contenuta in alla terza quello che metto fattor comune lo scelgo lo metto lo scrivo aggiusto un attimino questo polinomio immettiamo che davanti a le lettere ci fossero anche dei numeri dei coefficienti numerici il mio monomio invece di essere solo la seconda era due a alla seconda l'altro era 4 a b l'altro era 8 b questi oltre avere la lettera a in comune hanno anche un sottomultiplo comune di tutto 2 2 contenuto nel 2 contenuto nel 4 contenuto nell'otto dopo che io ho scelto quello che decido di mettere a fattor comune il monomio che è sottomultiplo di tutto 2 a è contenuto in 2 alla seconda 2 a è contenuto in 4 a b 2 a è contenuto in 8 a alla terza dopo che scelgo quello che hanno in comune apro una bella parentesi in questa parentesi ovviamente ci dovranno essere per forza tre termini perché tre termini erano in partenza tre termini ci devono essere in arrivo se io il 2 a lo moltiplico per il primo termine mi deve venire questo il 2 a moltiplicato per il secondo deve venire secondo il 2 a per il terzo deve venire il terzo 2 alla seconda diviso 2 a cosa fa dovete immaginare qual è quel termine che moltiplicato per 2 a mi dà alla seconda a 2 a per a e il 2 alla alla seconda poi sempre col segno io qui ho messo tutti più però per esempio se uno di questi fosse stato un meno mettiamo che questo è un meno allora torniamo la mia penna allora qui dovrò mettere un meno perché meno diviso più fa meno chi è quel termine che moltiplicato per 2 a mi dà 4 a b innanzitutto un 2 perché 2 per 2 fa 4 poi la a non serve perché la a c'è già ci sarà una b allora meno 2 b per 2 a cosa fa più per meno fa meno 2 per 2 fa 4 a per b fa a b e poi l'ultimo che sarà un più 8 diviso 2 fa 4 a alla terza diviso a farà alla seconda voi avete sempre la controprova la controprova cosa vuol dire che dopo che avete immaginato di scomporre se avete qualche dubbio di vedere se la vostra scomposizione è giusta fate la prova contraria fate le moltiplicazioni primo per il primo il primo per il secondo primo per il terzo per vedere se viene il polinomio di partenza e questa è una scomposizione che serve tantissimo e sempre la scomposizione a fattor comune nelle equazioni di solito serve perché magari può darsi che a denominatore vi trovate delle cose così 2x meno 4 cosa faccio raccolgo un 2 e cosa verrà 2x diviso 2 rimane x meno diviso più fa meno 4 diviso 2 fa 2 2x meno 4 rimane 2 x meno 2 ok e questa è la scomposizione base quella che bisogna cercare di fare sempre la scomposizione a fattor comune poi che altre scomposizioni servono io vi faccio le più importanti oggi quelle che di solito in seconda terza quarta quinta capitano di più se è un binomio capita tantissimo che un binomio sia una differenza di quadrati allora lo dice il nome stesso per essere una differenza di quadrati cosa ci deve essere un meno e due quadrati perfetti allora se sono due quadrati perfetti con in mezzo il meno si fa riferimento a quello che un prodotto notevole chiamato la somma per la differenza metto le due basi le due basi sono la x e il 2 una volta col più e una volta col meno allora in seconda questo per i ragazzi di prima ovviamente una cosa un po strana la x ovviamente deve essere per essere un quadrato deve essere elevata per forza alla seconda la quarta l'ottava alla terza non può essere elevato perché alla terza non sarebbe un quadrato ma se per caso il secondo termine non è un quadrato perfetto per chi è in seconda lo scriverà così x meno radice di 3 chiusa tonda aperta tonda che moltiplica x più radice di 3 ovviamente per chi è in seconda perché ha studiato che il numero che al quadrato da 3 è la radice di 3 x meno radice di 3 per x più radice di 3 questa è un'altra scomposizione molto famosa la differenza di quadrati ovviamente per essere una differenza di quadrati il vostro polinomio in partenza deve essere per forza un binomio perché se no altrimenti col cavolo che può essere una differenza di quadrati poi cosa capita tantissimo da scomporre nei denominatori delle frazioni che avete un trinomio allora attenzione il trinomio la prima cosa che vi consiglio sempre di vedere è se per caso questo cavolo di trinomio sia un quadrato di binomio che intanto ripasso anche sui prodotti notevoli cosa deve essere per essere un quadrato di binomio l'essenziale che abbia due termini al quadrato e qui per esempio ci sono x alla seconda il quadrato di x 4 il quadrato di 2 e poi uno fa un conticino e dice il doppio prodotto il doppio prodotto cosa vuol dire il primo per il secondo x per 2 meglio il doppio 2x il doppio il doppio di 2x è 4x qui il doppio prodotto c'è quindi vuol dire che siamo nel caso del quadrato del binomio siccome il doppio prodotto in questo caso è negativo ci metto un bel segno meno x allora quindi la prima cosa se fosse un quadrato di binomio cioè se voi avete un trinomio la prima cosa da controllare è non è che per caso questo trinomio sia un quadrato di binomio andate a valutare ci sono due quadrati perfetti sì scrivete le basi di queste basi c'è il loro doppio prodotto sì se il doppio prodotto è col più metterò il più se il doppio prodotto fosse stato col meno lascio il meno ma deve esserci il doppio prodotto per esempio se io una cosa del genere questo qui non è il quadrato del binomio perché uno all'inizio dice oh c'è x al quadrato che il quadrato di x c'è 4 che il quadrato di 2 poi uno fa il conti e dice ma il doppio prodotto tra x e 2 è 2 x no il doppio prodotto tra x e 2 sarebbe 4 x anzi in questo caso uno dice invece di avere il doppio prodotto in questo caso il prodotto semplice allora significa che questo si chiama un falso quadrato quando il posto di avere il doppio prodotto avete il prodotto semplice vuol dire che vi trovate di fronte a una cosa chiamata il falso quadrato e quindi questo qui non si scompone non si scompone non si scompone non perché faccio sciopero io ma perché proprio non è scomponibile invece una delle cose che capitano spesso che può capitare spessissimo e avere quello che si chiama il trinomio speciale per esempio una cosa del tipo x alla seconda meno 3 x meno 4 che è un trinomio è un trinomio 1 2 3 uno dice è il quadrato di un binomio no perché x alla seconda sarebbe il quadrato di x 4 il quadrato di 2 il doppio prodotto l'abbiamo visto prima sarebbe 4 x invece qui c'è 3 x quindi questo non è no quadrato no falso quadrato perché abbiamo detto che il falso quadrato è quello che al posto del doppio prodotto al prodotto semplice se al posto del doppio prodotto c'è il prodotto semplice quel trinomio lì non è scomponibile invece qui non è né una né l'altra cosa non c'è né il doppio prodotto quindi non è un quadrato di binomio e non è neanche un falso quadrato perché per essere falso quadrato ci doveva essere un 2 x allora è un trinomio speciale vi dovete ricordare sempre che l'ultimo numero è quello che io chiamo p prodotto il numero in mezzo è quello che io chiamo s il numero mezzo la somma il numero finale è il prodotto allora io devo cercare di trovare due numeri che mi danno prodotto meno 4 che mi danno somma meno 3 e vi scervellate un po allora in questo caso me vengono subito chi sono i due numeri meno 4 e più 1 e beh certo me lo sono inventato io però voi avrete sempre il modo di arrivare a questi due numeri perché basta che partite sempre dal prodotto allora innanzitutto il prodotto è negativo essendo il prodotto negativo per forza di cose un numero sarà positivo e uno è negativo e poi pensate quel numero a scriverlo come 4 per 1 in questo caso non è che avete molte possibilità se dovete scrivere il 4 come prodotto lo scrivete come 4 per 1 come 2 per 2 se invece avessi avuto come prodotto poi lo cancello per non confonderci l'esercizio se avessi avuto come prodotto 16 le possibilità di avere prodotto 16 sono di più 1 per 16 2 per 8 3 no 4 per 4 e così via se il numero fosse stato 24 c'erano più numeri 1 24 2 12 3 per 8 6 per 4 quindi però sono sempre un numero i numeri che danno un tot come prodotto sono sempre limitate e prima o poi ne trovate una che va bene meno 4 per più 1 da meno 4 meno 4 più 1 da somma 3 una volta che avete trovato questi numeri non dovete far altro che aprire una bella parentesi e scrivere x meno 4 chiusa tonda aperta tonda x più 1 e la scomposizione è bella che fatta quindi ricapitoliamo queste sono le scomposizioni più importanti allora scomposizione raccoglimento fattor comune esiste un fattore comune che esiste tra tutto lo metto in comune apro la tonda e scrivo ogni monomio privato di quello che voi avete messo in fattore comune c'è una la seconda qui c'è a metto a c'è una b qui c'è a metto b eccetera eccetera binomio che è una differenza di quadrati quindi aperta tonda le basi una volta col meno una volta col più anche se il quadrato non è un quadrato perfetto basta mettere la sua radice quadrato di binomio se ci sono due quadrati perfetti positivi e il terzo termine deve essere il prodotto per due delle basi o col più o col meno se col meno metto il meno se col più metto il più ok se invece di avere un doppio prodotto o il prodotto semplice quel trinomio lì sicuramente non è scomponibile è come se fosse un numero primo come se mi dicessero scomponi il numero 7 7 io non lo riesco a scomporre 7 7 per 1 punto e basta quindi è un numero primo il trinomio che ha due quadrati perfetti ma il prodotto delle loro basi equivale al terzo termine è un falso quadrato e non si può scomporre ultima analisi il trinomio speciale che deve avere a non ve l'ho detto ovviamente il trinomio speciale deve avere x alla seconda x è il termine noto io mi scervello un po scrivo l'ultimo numero col suo segno meno 4 scrivo il numero in mezzo col suo segno mi scervello trovare due numeri che mi danno prodotto l'ultimo numero somma quello in mezzo una volta che li ho trovati apro la tonda la lettera qui la lettera la x ovviamente se la mia lettera fosse stata alla seconda meno 3 a meno 4 è sempre il trinomio speciale i numeri sono quelli lì scrivo la lettera a a meno 4 chiusa tonda aperta tonda a più 1 queste sono le scomposizioni base poi cosa c'è di scomposizioni magari un po più articolate per esempio se un quadrinomio questo però potrebbe capitare se un quadrinomio io potrei avere una cosa del genere b facciamo meno b alla seconda questo è un quadrinomio cosa potrebbe essere raccogliere a fattor parziale qui in comune non c'è nulla scrivo in nero che è meglio non c'è nulla però se notate tra i primi due c'è in comune una lettera a a questi quattro monomi sono tutti diversi uno dall'altro a è diverso da b che è diverso da b che è diverso da b alla seconda allora tra i primi due io potrei raccogliere a fattor comune una bella a a diviso a fa 1 meno a b diviso a fa b ok a per 1 fa a a per meno b fa meno ab poi c'è l'altro pezzettino del mio polinomio tra questi due chi è che c'è in comune una b ma devo raccoglierla col segno o col più o col meno allora per esempio se io decidessi di raccogliere più b cosa verrebbe b diviso b fa 1 meno diviso più fa meno b alla seconda diviso b fa b allora se pensate al passaggio contrario a per 1 fa a per meno b fa meno b più b per 1 fa più b più b per meno b fa meno b al quadrato quindi io ho scritto una cosa giusta però questa qui non è una scomposizione perché per essere una scomposizione vi ho sempre detto sempre detto nelle mie classi che deve essere un prodotto non ci devono essere più e meno fuori dalle parentesi qui sostanzialmente è una somma allora pazienza che ci siano questi segni di più e meno all'interno delle parentesi anche qui ho scomposto e c'era un meno c'era un più ma questo meno e questo più erano all'interno delle parentesi se io dovessi descrivere dire che cos'è l'operazione principale che io vedo in questa espressione un per il per di solito il puntino nelle espressioni letterali non lo si mette però io vedo sostanzialmente che questo è un prodotto tra due parentesi ci sono dei segni di più e meno ma sono quelli contenuti nelle parentesi uno potrebbe dire la parentesi x meno 4 la chiamo parentesi 1 la parentesi x più 1 la chiamo parentesi 2 è come se uno l'abbrevio è come se uno avesse un nome lunghissimo tipo massimiliano io lo chiamo max la parentesi x più 1 la chiamo p2 la parentesi x meno 4 la chiamo p1 per abbreviare in mezzo tra queste due parentesi cosa c'è un segno di moltiplicazione quindi è una scomposizione in fattori i segni di più e meno sono quelli contenuti nelle parentesi invece nel mio caso ci sono i segni contenuti nelle parentesi però c'è anche un segno fuori da una parte di somma fuori da una parentesi che non va bene quindi questo non è scomposto in fattori allora tra i due facciamo così tra i due aspettate cancelliamo qua allora tra le due parti separate da un più se voi notate c'è una cosa che è uguale questa e questa sono uguali allora questa parentesi io la posso mettere a fattor comune 1 meno b lo metto fattor comune in questo termine se io mezzo fattor comune l'1 meno b di questo termine cosa mi rimane la a se io l'1 meno b l'ho messo fattor comune di questo termine mi rimane il mio più b provate a fare la moltiplicazione come si fa tra due parentesi primo per il primo primo per il secondo secondo per il primo verrebbe sicuramente il polinomio in partenza 1 per a a 1 per più b più b è questo meno b per a meno ab è questo qui meno b per più b meno b alla seconda questa si chiama scomposizione fattor parziale però non è che sempre viene perché per esempio se io avesse una cosa così x alla terza meno 2a e poi ho più x alla seconda più y e qui che cacchio faccio io ma mettiamo anche che ci fosse una x tra questi due e una x anche qui io raccolgo una x tra i primi due mi verrebbe x alla seconda meno 2 tra gli altri due posso raccogliere una x e mi rimarrebbe x più y le mie due parentesi non sono uguali sono fregata non posso andare avanti questo polinomio non è scomponibile a fattor parziale magari si può scomporre in altre maniere che adesso però non stiamo a trattare quindi direi che le scomposizioni base quelle che servono per soprattutto la seconda la terza la quarta e la quinta sono queste qua sono le scomposizioni a fattor comune che abbiamo detto le scomposizioni dei binomi che sono differenze di quadrati le scomposizioni dei trinomi che sono quadrati di monomi di binomi le scomposizioni che sono trinomi speciali le scomposizioni a fattor parziale a fattor parziale possono funzionare anche se i termini del polinomio in partenza invece di essere 4 fossero stati 6 però l'essenziale è che raccogliendo 2 per 2 o anche 3 per 3 potrebbe succedere no le parentesi che mi vengono devono essere identiche e non vi dovete mai fermare a questo punto perché così non è una scomposizione devo fare in modo che le due parentesi siano identiche le metto fattor comune apro la tonda la prima parentesi accompagnata da una a la seconda parentesi accompagnata da una b voi pensate 1 meno b per a è questo 1 meno b per b è questo qui ok buon queste sono le scomposizioni essenziali lo so che non sono tutte perché ci potrebbe essere un polinomio con sei termini che è il quadrato di un trinomio ci potrebbe essere un quadrinomio che è il cubo di un binomio ci potrebbe essere un polinomio in ordine che si scompone con ruffini però io in questa lezione volevo fare le scomposizioni quelle che servono soprattutto dopo la prima in seconda in terza in quarta in quinta quelle essenziali quelle che di solito ricorrono di più e sono questa qui tra l'altro su youtube io ho già caricato un video sulla scomposizione con ruffini che quindi è già contenuta in un mio video fatto già già messo su youtube ok su questa parte io avrei finito con voi ok fattore allora adesso leggo un attimino la chat allora fattore uguale moltiplicazione rapporto divisione sì c'era una domanda in chat sì il fattore nella moltiplicazione nella divisione i termini no più che no rapporto è un nome allora la parola rapporto nella divisione significa fare un rapporto significa fare la divisione nel rapporto quando voi avete la divisione o rapporto i termini vengono chiamati divisore dividendo oppure numerato visto che la divisione abbiamo imparato in prima che ogni divisione può essere vista come una frazione li possiamo chiamare il numeratore il denominatore quindi i termini di una moltiplicazione sono i fattori i termini di una divisione li potete chiamare numeratore denominatore oppure divisore dividendo no la parola rapporto sostituisce un po divisione ok ho risposto a una domanda che fabio mi ha fatto in chat ok io avrei riassunto queste che sicuramente per un ragazzo soprattutto di prima itis magari il prima liceo serve ogni tanto qualcosina di più però soprattutto in una prima itis le scomposizioni essenziali che non dovete sbagliare sono queste che ho ripassato in questa mezz'oretta poi ripeto può servire la scomposizione con ruffini però quella ho già caricato il video su youtube io vi saluto fabio se vuoi farmi altre domande in chat se no altri me allora la prossima settimana terrei sempre lo streaming a quest'ora alle 6 perché anche la prossima settimana sarò pavia poi quindi direi che tenere ancora quest'ora va bene vi saluto ancora vi invito anche su youtube magari a seguire il canale a mettere la campanella aspetto magari l'ok di fabio che visto che mi aveva fatto la domanda magari mi sembrerebbe giusto non salutarci ok sì ok va bene ok mi ha scritto posto e ci sentiamo la prossima settimana saluti ciao 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 ciao